La provincia di Salerno prosegue i lavori che ormai sono in fase di ultimazione e di ampliamento della sede stradale a servizio dell'aeroporto Costa d'Amalfi. Questi lavori sono fondamentali, dichiara il presidente della provincia, perché a breve consentiranno un rapido collegamento dell'area aeroportuale con la SP417, detta Versana, la SS18 e l'uscita autostradale Salerno-Reggio Calabria. In particolare abbiamo quasi terminato gli interventi lungo via Lago Lucrino e via Lago Carezza nel comune di Ponte Cagnano-Faiano, dove ormai mancano solo il tappetino stradale e la relativa segnaletica che andremo a realizzare dopo lo spostamento dei pali della rete elettrica. Dobbiamo solo ultimare gli ampliamenti di via Olmo nel comune di Bellizzi, nel tratto compreso tra il cavalcavia ferroviario e l'ingresso dell'aeroporto, dove realizzeremo una rotatoria nell'intersezione con via Antico Cilento. Questo della viabilità a servizio dell'aeroporto Costa d'Amalfi è un cantiere importante con un importo lordo di 3,4 milioni di euro. E voglio ringraziare tutti i cittadini per la preziosa collaborazione che ci ha permesso di portare avanti regolarmente i lavori che, anche grazie a loro, a breve saranno ultimati. L'intervento è coordinato dal settore viabilità e trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del consigliere provinciale delegato alla viabilità Antonio Rescigno. I cantieri attivi sul nostro territorio ci permettono innanzitutto di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione. In particolare, questo ci permetterà un importante ritorno economico su tutta la nostra provincia, fondamentale in un momento delicato come questo.